ok dovremmo essere live buonasera buonasera a tutti siamo qui aspetto un attimo magari di vedere che arrivi qualcuno come sempre spero che non ci siano problemi tecnici che si veda bene che si senta bene eccetera ecco buonasera oraculus buonasera giuseppe buonasera adimar appunto speriamo che sia tutto ok che tecnicamente vada tutto bene ok molto bene buonasera silvia quindi come dicevamo quando abbiamo fatto l'ultima live abbiamo parlato della della magia dei sigilli e abbiamo spiegato insomma le tecniche di base che poi stasera magari un rapido riassunto appunto lo facciamo ma c'erano alcuni esempi di buonasera antonella scusate un po di il raspino per questi cambiamenti climatici frequenti e rita buonasera dicevo abbiamo fatto una panoramica sulla tecnica anche teresa buonasera sulle tecniche di base del della sigil magic ma poi c'erano alcuni esempi tecniche avanzate che non abbiamo avuto il tempo di trattare in maniera corretta la live sarebbe durata veramente troppo e c'era già comunque molta carne al fuoco per cui giustamente abbiamo pensato di dividere in due la cosa io pensavo di farcela in una singola live ma invece insomma il materiale comunque è parecchio ed è molto interessante quindi abbiamo preferito dividere in questa seconda parte in in cui appunto vedremo un po un paio di esempi di possibili tecniche avanzate usando i sigilli perché come dicevo la volta scorsa i sigilli sono una tecnica molto versatile molto duttile permettono comunque anche invitano in un certo senso proprio alla sperimentazione e alla possibilità di fare pratiche diciamo diverse dalla pratica standard buonasera ginevra e di conseguenza volevo dare qualche esempio in questo senso ovviamente si tratta di tecniche che sono state sviluppate da alcuni praticanti ovviamente daremo tutti i crediti del caso che buonasera anche Irene che ovviamente sono dei esempi cioè questo non toglie anche Noemi buonasera scusate se mi interrompo ma non mi fa piacere insomma vedere la gente che è venciata e non salutarla personalmente quindi anche se all'inizio può essere un po' così dispersivo quindi diciamo che ci sono molti modi in cui i sigilli possono essere utilizzati al di là di quelle che è quella che è la tecnica base di cui abbiamo parlato la volta scorsa e stasera ne vediamo un paio e poi ovviamente c'è anche la tecnica degli pseudo servitori di cui ho parlato nella live invece appunto sui servitori che utilizzano i tarocchi e poi la tecnica della magia dei sigilli appunto per creare gli pseudo servitori di servitori minori semi servitori chiamateli come volete per cui se volete un ulteriore esempio di un metodo avanzato di utilizzo dei sigilli potete rivedervi anche la live sui servitori perché spiego quella cosa che appunto è molto interessante buonasera Gianna adesso io non so quanti di voi hanno già partecipato alla precedente live in cui abbiamo parlato appunto delle tecniche di base della tecnica di base che trovate un po' ovunque insomma ciao marcus ma io faccio comunque direi di fare comunque una piccola una piccola introduzione di riepilogo diciamo di riassunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa cercando di essere rapidi perché sennò poi non c'è tempo per parlare del resto ma mi sembra giusto insomma nel caso che ci sia qualcuno che si è perso la live precedente che potete comunque vedere perché se non è già nel gruppo nei file lo sarà presto comunque in ogni caso tutte le dirette vengono mantenute e però insomma così per buonasera valeria per dare un ulteriore diciamo ripasso ho pensato che fosse una buona idea comunque fare un appunto un breve riepilogo di quanto è stato detto nelle puntate precedenti quindi che cosa è la magia dei sigilli è una tecnica magica molto semplice molto efficace che deriva in parte dalle pratiche che sono state diciamo inventate sperimentate da ostin osman sper che il tizio che vedete in foto ex mago cerimoniale amico di crowley artista inventore dell'alfabeto del desiderio eccetera eccetera negli anni 70 80 queste tecniche sono state riprese e poi da e qual questo è un esempio di come si si fa diciamo una tecnica base dei sigilli da i maghi della chaos magic buonasera rada la magia del caos che questa corrente appunto che nasce in inghilterra fino anni 70 eccetera che diciamo è abbastanza rivoluzionaria perché si discosta molto da tutte le tecniche tradizionali della magia cerimoniale o della stregoneria folcloristica popolare tradizionale e diciamo sperimenta maggiormente con buonasera valentina e quindi recuperano anche questa idea della sigill magic e la sviluppano e la presentano in vari vari modi con vari stili e autori come peter j carroll feline e altri che sono i padri diciamo della 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 chaos magic utilizzano molti e poi e poi viene utilizzata anche da molte altre persone anche all'interno di altre traduzioni tradizioni perché ha il vantaggio di non essere culturalmente definita è una cosa sostanzialmente in un certo senso una forma quasi di meditazione quindi si può integrare facilmente con qualunque altro tipo di percorso di pratica o di tradizione quindi la tecnica base l'abbiamo vista scriviamo una frase con quello che vogliamo ottenere evitando qualunque forma negativa ed evitando frasi come voglio che desidero che che più che altro trasmettono appunto questa mancanza ma scrivendo la frase in prima persona presente indicativo in modo che sia qualcosa come se stesse già accadendo che fosse addirittura già accaduta poi togliamo tutte le vocali poi ricopriamo soltanto una volta le consonanti presenti togliendo le doppie e poi da questo ricaviamo la radice consonantica buonasera loredana la radice consonantica poi può essere appunto integrata in un simbolo come possiamo vedere in questo caso in un simbolo grafico simbolo grafico e dipende dal vostro la vostra creatività dal vostro subconscio motivo per cui ho già detto una volta scorsa che io non mi trovo particolarmente d'accordo con chi si mette a fare sigilli per altre persone però poi ognuno del suo ci mancherebbe ma ritengo che sia molto più efficace se i sigilli ce li facciamo noi qui ci sono vari esempi del del di sigilli che derivano dalla stessa radice consonantica mi sono sforzato di fare delle cose molto diverse proprio per farvi vedere che ci possono essere tanti stili differenti e poi tendenzialmente bisogna attivare il sigillo secondo varie tecniche dalla magia sessuale alla meditazione all'osservazione comunque insomma il succo è entrare in uno stato alterato di coscienza e fissare il sigillo mentre se è in uno stato alterato di coscienza in modo da caricarlo energeticamente e poi lo si lancia che in genere il metodo più comune è bruciando il pezzettino di carta dove abbiamo disegnato il sigillo ma ci sono altre scuole di pensiero ci sono quelli che li usano mettendoli tipo magneti sul frigo o in bagno o li attaccano a uno specchio insomma ci sono vari metodi malsucco e quello la creazione in primo luogo la formazione corretta della frase e della radice consonantica la creazione attiva creativa appunto del sigillo il caricamento l'attivazione diciamo e poi il rilascio il lancio del sigillo queste sono le fasi primarie che abbiamo visto anche la volta scorsa questo è un esempio di un'altra cosa che potete fare cioè utilizzare questo credo che sia l'alfabeto delle streghe il transitus fluvi potete utilizzare altri alfabeti con una semplice procedura di sostituzione delle lettere anche alfabeti esistenti o alfabeti magici o alfabeti inventati per ulteriormente come dire ingannare la vostra mente conscia sostanzialmente potete sperimentare in merito ma di per sé non dovrebbe cambiare nulla di particolare e abbiamo anche detto che appunto tutta la tecnica di una magia di sigilli funziona perché si bypassa completamente la mente conscia e si va a imprimere il desiderio che abbiamo sigillato nel subconscio e la cosa migliore poi una volta che viene lanciato è quello di dimenticarsi dell'operazione e lasciare che le cose accadano sostanzialmente diventa un po difficile farlo se abbiamo fatto un singolo sigillo perché sappiamo benissimo che cos'era e cosa abbiamo chiesto motivo per il quale è l'alfabeto tebano scusami sì 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 e sono molto simili con il transitus fluvi hai ragione sì sì l'alfabeto tebano adesso leggo e ho visto che ci sono dei commenti dicevo visto che la cosa migliore sarebbe dimenticarsi dell'operazione io consiglio sempre di fare almeno una decina di sigilli tanto se non riuscite a racimolare una decina di desideri ragazzi ci stiamo prendendo in giro perché ne abbiamo centinaia di desideri quindi scrivete una decina di desideri una decina di frasi le formattate correttamente fate le radici consonanti che create i sigilli poi li mettete in una scatoletta lasciate passare qualche giorno e poi quando volete fare un sigillo ne estraete uno a caso in quel modo non c'è modo che sappiate a cosa fare riferimento quel sigillo specifico e bypassate completamente la mente conscia lo caricate lo lanciate e poi non dovete neanche cioè dovete dimenticarvi il fatto di aver fatto un sigillo ma voglio dire comunque non avete idea di quale sia quello che avete lanciato nello specifico e questo è un ulteriore inganno alla mente cosciente che aiuta ulteriormente nella riuscita nell'efficacia dell'operazione questo insomma è più o meno il succo di tutto quello che abbiamo detto la volta scorsa ovviamente se ci sono dubbi domande se c'è qualcuno che è rimasto indietro col programma anche se roba del primo quadrimestre insomma comunque potete scrivere nei commenti e se posso vi rispondo molto volentieri così poi dopo magari passiamo appunto al tema vero della serata tanto leggo un paio di commenti a buonasera cinzia buonasera lorenzo adimar dice anche con la transorgasmica ponere il caricamento sì sì l'ho detto la magia sessuale è quello sostanzialmente l'abbiamo già specificato anche la volta scorsa e anzi il metodo più diffuso e francamente più rapido e probabilmente anche uno dei più efficaci oltre che essere sicuramente uno dei meno noiosi più divertenti ma poi a ognuno il suo ci mancherebbe è giusto ma sai parlare di giusto non giusto in questo caso è veramente una strada scivolosa può essere un altro metodo se volete c'è il motivo per cui vengono tolte le vocali perché si rende ancora più irriconoscibile la frase buonasera giusi per cui se invece lasci le vocali è più facile risalire al significato originario è tutto un discorso di codificazione del desiderio per cui personalmente preferirei toglierle però sperimentate non credo che ci sia veramente in questo caso io non penso di aver mai conosciuto due praticanti che facciano i sigilli esattamente nello stesso identico modo in tutte le fasi di creazione di lancio per cui sperimentate potrebbe essere comunque una cosa interessante marco dice io le doppie consonanti le marco con un cerchietto sotto e questo cerchietto diventa parte del sigillo è una questione più grafica ecco questa per esempio vedete è un'altra idea quello che dicevo non esistono due stregoni due maghi due praticanti che credo facciano i sigilli nello stesso identico modo infatti io vi ho fatto una panoramica il più completa possibile nella live scorsa proprio per farvi capire i concetti di base e per fornirvi tutte le possibili varianti ma poi non sono tutte le possibili varianti sono quelle più note in realtà poi dipenderà dalla vostra sperimentazione della vostra pratica quindi non c'è un giusto uno sbagliato insomma ecco adimar dice ancora ultimamente sto sperimentando i sigilli mantrici sono fantastici tu li hai provati no non ho neanche idea di preciso di cosa siano pensa tu nonostante il fatto che cerco disperatamente di presentarmi come tale devo ammettere di non essere ancora onnisciente ci sto lavorando però purtroppo ancora sono un po lontano quindi se ti va magari passa un link sul gruppo magari così poi ne parliamo nei commenti immagino che sia così a muzzo potrebbe essere una roba per cui usando quella radice vocalico consonanti che crede i mantra e poi ripeti mantra e fai i sigilli in quel modo potrebbe essere non lo so parole di potere usando la frase sì sì esatto beh ma questo è un altro uso che credo abbiamo sfiorato è comunque nella live precedente cioè il fatto che si possono fare sigilli vocali appunto creando delle parole rimescolando le lettere del desiderio che abbiamo codificato ok si la procedura è la stessa più o meno si possono fare sigilli musicali nel senso che si può assegnare una nota a come dire ogni lettera e poi a seconda della posizione delle lettere nella radice consonantica si suona una melodia proprio che si può mettere alcuni la mettono come suoneria del cellulare per esempio in modo che continua diciamo in qualche modo a impressionare la parte subconscia Ginevra ho provato attivare un sigillo a breve termine utilizzando il theta healing e ha funzionato vedi c'è appunto ribadisco ognuno ha un po i suoi metodi ci sono sigilli come gli pseudo servitori che diventano grafici ma hanno uno scopo leggermente diverso rispetto a un sigillo standard quindi crei di fatto una sorta di piccola entità ci sono ipersigilli che prendono un'intera sessione creativa ad esempio una serie di quadri o una serie di fumetti come ha fatto Grant Morrison o dei libri io mi sono reso conto anni dopo di aver fatto un ipersigillo con il primo disco che ho registrato con la mia ex band per vari motivi e l'ho fatto solo in parte consapevolmente perché in realtà non praticavo e insomma la cosa è emersa un po di suo quindi in generale c'è una fortissima connessione fra il processo proprio creativo nel vero senso dei termini creativo artistico quindi e la sigillazione in generale da Chaos Magic Giussi ma credo che poi che ciò che dici vada preso come linea guida non come legge dunque sta l'arte ma infatti assolutamente una sera Giuseppe esattamente Giussi sono delle linee guida di quelle che sono le pratiche più comuni che io presento perché se uno non ha mai fatto sigill magic gli consiglio fai così da questo 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 e provi perché è la roba più comune più facile più veloce più rapida più efficace poi ognuno sviluppa la sua di tecnica io parto sempre dal presupposto che quando si impara una cosa nuova la cosa migliore sia quella di seguire una linea guida di chi è venuto prima dei praticanti che sono venuti prima ma poi è giusto questo perché almeno si impara e si acquisisce bene e si interiorizza bene la tecnica e i principi che fanno parte di quella tecnica il perché si fa quello che si fa eccetera poi dopo ovviamente con la pratica ognuno sviluppa delle tecniche sue personali che vanno benissimo cioè alla fine l'efficacia è la cartina torna sole del fatto che stiate effettivamente facendo le cose nel modo corretto se funzionano vuol dire che per voi va bene punto poi magari un'altra persona fa esattamente quello che fate voi e non gli funziona perché probabilmente deve sviluppare una tecnica sua insomma marcos dice si possono creare anche sigilli aspetta che funzionino da trigger per attivare certe azioni magiche usando il sigillo e la parola di potere che creiamo da esso e questa è già una tecnica avanzata che magari poi vediamo tipo un sigillo per creare un cerchio e uno per smontarlo ad esempio un uso un po diverso del concetto originale di sigill magico è qualcosa di pratico e utile per il sottoscritto sì sì ma infatti ci sono tra l'altro tecniche simili anche nella magia tradizionale che sicuramente sono derivate in parte da questo tipo di cose quindi comunque è tutto questo appunto quello che io ho presentato è una panoramica sulle tecniche di base e sul perché si fa quello che si fa sulle ragioni che ci sono diciamo sotto il ragionamento che c'è sotto la filosofia che c'è sotto e poi ovviamente ognuno di noi deve cercare in primo luogo di interiorizzarle la differenza fra una pratica magica e la superstizione è che nella pratica magica studiamo il perché facciamo quello che facciamo nella superstizione lo ripetiamo semplicemente perché si fa così quindi non cerchiamo di non essere superstiziosi ok cerchiamo di capire il perché funzionano le cose in un certo modo o perché quelli prima di noi hanno deciso di fare le cose in un certo modo e poi una volta che abbiamo interiorizzato quei motivi capiamo se e quanto è possibile variare determinate pratiche secondo la nostra indole personale questa è una cosa che ritengo molto importante ed il motivo per cui io non sono mai stato d'accordo e non sarò mai d'accordo con quelli che scrivono ah si fa così perché si fa così quella è superstizione la magia secondo me funziona per consapevolezza per aumento della consapevolezza e della coscienza personale non perché si fa così quella è un'altra roba secondo me ok comunque venendo a noi questi questi sono alcuni sigilli scusate alcuni sigilli miei che vi faccio vedere perché tanto non è che siano né un segreto né un problema come potete vedere sono anche diversi come stile cerco anche un po di sperimentare anche dal punto di vista grafico ovviamente non ho la più pallida idea di a cosa servissero che è un po' il succo della cosa è un po' il punto e va bene e detto tutto questo se ci sono altre domande altre cose che volete dire in chat prima che passiamo diciamo al piatto forte della serata scrivete pure quello che volete valeria credi sia possibile in qualche modo creare sigilli solo pensando lo penso di sì ma penso che sia molto meglio se cominci come dicevo prima seguendo la tecnica di base poi probabilmente con la pratica e con l'esperienza puoi arrivare tranquillamente anche a creare dei sigilli mentali fra virgolette non ho dubbi che sia possibile però il mio consiglio poi fate quello che vi pare io non cioè come dire siamo tutti sulla stessa barca però vi do la mia opinione ovviamente essendo che sono da questa parte della webcam vi dico quello che penso io non cerchiamo mai di correre prima di aver cominciato a camminare cerchiamo di prendere le cose gradualmente la magia è un'avventura meravigliosa anche molto divertente a volte inquietante comunque proprio un'esperienza unica diciamo per l'essere umano e a volte può essere talmente affascinante talmente eccitante che ci facciamo facciamo un po prendere dall'entusiasmo dalle idee che ci vengono in mente della creatività e ci lanciamo anche in grandi imprese e poi magari non abbiamo il riscontro che avremmo pensato e rimaniamo magari un po delusi ma questo è semplicemente perché abbiamo fatto ma in quel passaggio forse il passo un po più lungo della gamba secondo me se prendiamo le cose con gradualità è possibile poi arrivare a fare di tutto e a sviluppare anche proprio una propria tecnica personale in generale giusi se non ricordo male non avevi specificato il motivo per cui vanno inglobati in un cerchio e intagliati in un quadrato perché non c'è questo motivo questo è come li faccio io in realtà non c'è nessun motivo che io conosca diciamo oggettivo scusate il caduto cellulare oggettivo diciamo o comunque riconosciuto universalmente per cui si debbano fare in questo modo potete fare dei pezzi di carta rotondi potete farli quadrati potete farli più grossi più piccoli potete a me piace metterli all'interno di un cerchio perché avendo anche un po la mentalità cerimoniale mi piace l'idea di avere il cerchio attorno quando faccio un'operazione è una cosa mentale mia ma per esempio ci sono altri praticanti che dicono no non metteteli in un cerchio perché li limitate li state costruendo attorno un limite un recinto dipende sempre da come si vive la cosa ovviamente quindi questi sono un esempio non devono essere necessariamente iscritti in un cerchio e non devono essere necessariamente su fogli di carta tagliati in modo quadrato possono essere potete prendere carta differente io uso banalmente un quaderno a quadretti come potete vedere e li taglio in modo quadrato perché è più comodo dividere il foglio in quel modo è tutto qui è una questione proprio puramente pratica ma non ci sono dei motivi rituali specifici il fatto di inciderli cioè di includerli in un cerchio può essere visto come nel mio caso come un potenziamento o in un altro caso io ho visto molti che commentano dicendo che invece possa essere una limitazione perché gli stai recintando in qualche modo insomma cerchio il triangolo cosa che dice Ademar cerchio il triangolo danno un focus attivo all'inconscio marcus c'è anche chi mette i sigilli dentro una specifica forma geometrica in base al significato occulto della forma geometrica specie se parliamo delle teorie di Pitagora al riguardo cinza c'è sempre qualcosa di personale concordo con tutto quello che avete scritto ma ribadisco essendo la magia dei sigilli una magia estremamente personale e molto sperimentale e le cose che vi presento stasera sono scoperte le cose fra virgolette o tecniche degli ultimi anni parliamo degli ultimi cinque anni dieci anni al massimo quindi la sperimentazione continua in ambito diciamo dei praticanti di magia e di esoterismo quindi scriviamo delle linee guida scriviamo dei consigli scriviamo le ragioni per cui facciamo le cose ma evitiamo di scrivere regole perché in realtà è una magia che secondo me si segue le regole che segue tutta la magia la linea di minore resistenza la linea di minore aspettativa però insomma ecco dice cinza che poi possa funzionare o meno dipende dalla pratica personale sì 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 esattamente esattamente quello che dicevamo tutti sono contento che siamo tutti sulla stessa pagina in questo senso cioè ciao stefano certi sigilli intagliati nel legno o altri supporti possono essere più forti non lo so se secondo te possono essere più forti probabilmente il tuo subconscio potrebbe arrivare a renderli ancora più forti ancora più efficaci può darsi io lo farei nel legno se dovessi fare dei sigilli permanenti cioè qualcosa che sigillo e carico in maniera particolarmente forte come non so un allarme per la casa una protezione e poi magari lo metto da qualche parte allora lo voglio incidere nel legno e lo tengo lì se no diventa un po' difficile cioè non so poi come potresti lanciarlo cioè sì per carità lo butto nel camino però oppure sì lo tieni da qualche parte però rischia poi di diventare una cosa non lo so un po' troppo cioè secondo me il bello dei sigilli è anche il fatto che siano abbastanza estemporanei abbastanza volatili perché seguono anche molto di più la tua volontà i tuoi desideri che cambiano ovviamente con il tempo quindi direi di no dice marcos a meno che non sia tuo ad assegnare un valore magico speciale al materiale di sostegno usato che è un po' quello che dicevo anch'io cioè dipende molto dalla tua impressione in merito non è sbagliato come dicevo eh è semplicemente una scelta personale non credo che ci sia di per sé qualcosa di più forte a livello intrinseco è una questione di tuo dialogo con la pratica di tua sperimentazione con la pratica Valeria ti spiego ho avuto una necessità quella del denaro dovendo ultimare i lavori di ristrutturazione di casa eh avendo pensato varie volte di provare a creare uno pseudo servitore per aiutarmi sulla questione non ci sono mai messa a crearlo a caricarlo eccetera ma ci pensavo veramente tante volte morale della favola tadan sono arrivati i soldi che mi servivano quindi botta di fortuna no può essere che tu lo abbia effettivamente fatto cioè continuando a pensarci continuando a rimuginarci sopra a mandargli energia hai di fatto creato una forma pensiero che probabilmente ha portato l'effetto che desideravi può capitare sì sì assolutamente in quel senso lì sì sì certo ma a me è capitato da volte di fare un sigillo e che si verificasse quello che avevo chiesto prima ancora di lanciarlo cioè l'ho fatto lo metto nella scatolina due giorni dopo capita quello che ho chiesto ma io non l'avevo né caricato né lanciato cioè a volte può capitare ovviamente non è una tecnica su cui io mi baserei in maniera stabile perché è anche molto come dire fuori dal tuo controllo va anche un po' a fortuna no? cioè nel senso se si incastra tutto va bene se no se manca qualche passaggio non hai molto il controllo sulla cosa però sì può capitare assolutamente solo a me si blocca il video per qualche secondo dice marcus se si blocca il video fatemelo sapere io non vedo problemi qua non ho visto problemi di alcun tipo però comunque volevo passare ok l'altra cosa che si può fare come dicevo la volta scorsa è usare un alfabeto non diciamo linguistico se così si può dire ma simbolico come ad esempio i vari pianeti i segni astrologici i simboli degli aspetti per in qualche modo creare poi il sigillo quindi cercare di codificare il vostro desiderio tramite questi simboli e poi utilizzare quei simboli per creare il sigillo abbiamo detto anche questo insomma ci sono veramente tanti metodi e tanti modi diversi che possiamo usare per sperimentare io vi consiglierei proprio di fare questo di provare a sperimentare e magari poi a pubblicare anche sul gruppo i vostri esperimenti e se sono riusciti o meno come avete deciso di di farli di pratiche tecniche avete usato eccetera eccetera ma ora passiamo a un altro argomento che secondo me è molto interessante voi vi chiederete che cacchio mi significa questa immagine? allora entrando un po' nel merito perché sennò va a finire che anche stasera non riusciamo a dire tutto quello che c'è da dire cominciamo con una tecnica avanzata di utilizzo dei sigilli che si deve a un mago del caos praticante anglosassone francamente non conosco la nazionalità so che attualmente credo che sia in Australia ma penso che fosse o inglese comunque si chiama Gordon White Gordon White Gordon White è un praticante di caos magic e di stregoneria ha un suo blog che si chiama rune soup cioè zuppa di rune in inglese gioco di parole insomma e lui ha inventato questa tecnica che sia che lui definisce sigill shawl 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 è un termine inglese simile al nostro banco o scuola per quanto riguarda i pesci cioè i banchi di pesci o le scuole di pesci ok shawl indica quello io ho deciso di recuperare questa tecnica ma in italiano ho pensato che banco o scuola fossero termini un po' fuorvianti e visto che in ogni caso come vedrete la il concetto di base è identico ho preferito stormo in questo caso siamo passati dai pesci agli uccelli ma insomma uno stormo di sigilli ok esattamente come lui parla di sigil shawl o shawl of sigils eccetera perché si parla di banchi di pesci di scuole di pesci di stormi di uccelli eccetera perché ci sono delle caratteristiche abbastanza tipiche di tutti questi grandi gruppi di animali che che sono evidenti che tornano nell'osservazione degli etologi appunto nel comportamento di questi animali Marcos dice che ha un problema di buffering in particolar modo queste regole quali sono? ogni membro dello stormo tende a mantenere una distanza minima e massima dagli altri membri dello stormo o dagli altri oggetti presenti nell'ambiente quindi una volta che si solleva uno stormo di uccelli o che si muove un banco di pesci le distanze fra i singoli individui variano leggermente ma non di molto e tendono a rimanere simili tendono sembra a rimanere molto vicine scusate questa piccola lezione di etologia ma vi giuro che che serve che poi ci torniamo sui sigilli ogni membro andrà più o meno alla velocità degli altri membri del gruppo ok? ovviamente perché altrimenti il gruppo si sfalderebbe subito ogni membro tende verso il centro di gravità percepito dello stormo questa è un peggio più complicata ma il succo è se voi immaginate questo stormo di uccelli e lo immaginate in termini tridimensionali come se fosse una sorta di sfera che si sta muovendo nello spazio il centro di questa sfera è il centro di gravità di quel gruppo ok? ogni singolo membro di quel gruppo tenderà al centro di gravità dello stormo quindi si muovono tutti più o meno alla stessa velocità mantengono tutti più o meno la stessa distanza e sono tutti più o meno attratti da un unico punto che è sostanzialmente il centro di gravità dell'intero gruppo ok? fin qui ci siamo? cosa cruciale esiste sempre un membro pilota ok? che dà l'impulso iniziale al movimento e che guida l'intero gruppo non perché è il leader non perché è più importante degli altri non perché è necessariamente in una posizione gerarchica all'interno del branco del gruppo diverso dagli altri ma semplicemente perché magari è stato il primo a reagire a un determinato stimolo esterno e quindi per reazione per riflesso condizionato nel momento in cui il primo membro di un gruppo si alza in volo per esempio tutti gli altri seguono e cominciano a comportarsi secondo le regole che abbiamo detto prima ok? questa cosa qua è interessante e si come si dice una proprietà emergente dei sistemi complessi questo è il termine diciamo tecnico scientifico è una cosa che emerge nell'osservazione di tutti i grandi gruppi di animali nelle mandrie appunto nelle scuole nei banchi di pesci negli stormi di uccelli eccetera eccetera a cosa ci serve tutto questo parlando di magia dei sigili perché Gordon White appunto di Ron Soup parla di di questa cosa allora vi leggo una citazione una citazione da un libro di Peter J. Carroll che è The Octavo che vi consiglio di leggere così come vi consiglio di leggere tutti i libri di Chaos Magic di Carroll e di Hein e di altri anche se nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo ancora sono tutti in inglese ma io vi ho tradotto perché almeno insomma ci capiamo tutti ho tradotto la citazione per voi la citazione dice questo per compiti complessi come vincere una guerra o in amore o sul lavoro spesso partendo da una posizione iniziale debole ci troviamo di fronte a probabilità scoraggianti ma tutti i passi necessari per raggiungere tali risultati potrebbero non essere così improbabili se esaminati individualmente la probabilità di lanciare 12 volte di fila una moneta e ottenere sempre testa è un disastroso 0,000 24 per cento a 1 scusate 0,000 0,000 24 a 1 quindi solo una persona su 4.000 in media può riuscirci ma ogni singolo lancio ha una probabilità dello 0,5 a 1 cioè del 50 per cento e qualsiasi mago con un po' di buon senso sceglierà di attaccare quei passaggi individualmente piuttosto che scontrarsi frontalmente contro un formidabile livello di improbabilità ok cosa sta dicendo Peter J. Carle sta dicendo che i problemi che noi viviamo nella vita molto spesso ci sembrano insormontabili ci sembrano enormi ci sembrano difficilissimi e molto spesso lo sono hanno tutta una serie di difficoltà di problemi di passaggi di cose che ci appaiono appunto enormi ma se noi prendiamo quel problema e proviamo a suddividerlo e a spezzettarlo in tanti problemi più piccoli guardando nei vari aspetti le varie caratteristiche otteniamo prendendo in considerazione uno di questi aspetti uno di questi pezzetti del grande problema abbiamo improvvisamente una cosa che è molto più digeribile e così facendo possiamo arrivare a superare anche quello che inizialmente ci sembrava qualcosa di insormontabile in modo molto più facile ok facciamo un esempio banale se io faccio un sigillo per vincere il superanalotto magari il sigillo riesce anche e ha effettivamente un effetto ma comunque non vinco il superanalotto perché? perché ho una probabilità su 60 milioni ok faccio il sigillo eccezionale un sigillo incredibile meraviglioso aumenta di 100 volte la mia possibilità di vincere va bene ho 100 possibilità su 60 milioni ok il modello probabilistico ci dice che il modello probabilistico è un modello che dice sostanzialmente che la magia è un metodo attraverso cui noi possiamo ottimizzare le probabilità che accada qualcosa che noi vogliamo è una manipolazione dei campi probabilistici una manipolazione delle probabilità che una certa cosa accada o meno ok il modello probabilistico ci dice che fare un sigillo fare un incantesimo fare un rituale per vincere il superanalotto molto probabilmente non avrà effetto comunque perché ci scontriamo contro un tale livello di improbabilità che anche facendo un rituale ben riuscito e che effettivamente ha avuto successo anche se noi ovviamente non possiamo saperlo non possiamo misurare la cosa ma anche ammettendo che abbia successo questo aumento delle probabilità risulta ininfluente ok allora Gordon White e Peter J. Carroll e altri autori di Chaos Magic che hanno questo tipo di approccio molto quasi di applicazione no del metodo scientifico della matematica alle operazioni magiche dicono proviamo a fare una cosa diversa proviamo a prendere il problema lo spezzettiamo in tanti piccoli problemi molto più abbordabili molto più facili da manipolare a livello probabilistico e cerchiamo di risolvere il problema in questo modo un pezzettino per volta ok e come può funzionare questa cosa a livello pratico cioè perché stiamo facendo tutto questo discorso siamo partiti dalle osservazioni etologiche dei grandi gruppi di animali sull'analisi probabilistica degli eventi della nostra vita quando stiamo parlando di Sigil Magic alcuni di voi forse avranno già avuto qualche intuizione ma la cosa in realtà è piuttosto semplice ammettiamo che noi siamo in una condizione difficile a livello economico a livello lavorativo e vogliamo migliorare la nostra condizione allora sempre per rimanere su temi molto pratici perché poi ragazzi la magia viene sempre usata anche in termini molto pratici quindi procedere con gradi e con poco ego sì ma adesso lasciamo perdere il discorso dell'ego è proprio una questione tecnica pratica cioè no dobbiamo affrontare questo problema ok cosa possiamo fare per questo 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 e lo affrontiamo in maniera più efficace ad esempio appunto dobbiamo migliorare la nostra condizione materiale ok se facciamo il sigillo per vincere il superanalotto è molto molto probabile 60 milioni a 100 riuscendo anche col sigillo che non accada nulla invece proviamo a mettere giù una lista di cose che noi possiamo fare per migliorare la nostra condizione lavorativa o economica ok possiamo ricevere se abbiamo un lavoro più o meno stabile possiamo ricevere un aumento o una promozione che poi è l'esempio che abbiamo fatto all'inizio ricevo una promozione quindi questo è un ottimo è un ottimo è un ottimo come siamo profondi stasera questo è un ottimo attacco del problema che ne so se abbiamo un mutuo con la banca possiamo cercare di fare in modo che si possa ridiscutere perché sono cambiati i tassi eccetera eccetera possiamo fare un sigillo per ricevere delle donazioni o dei regali da parte di parenti o di amici possiamo se siamo dei libri professionisti fare un sigillo per ottenere nuovi contratti trovare nuovi clienti in qualche modo per aumentare la nostra attività o per aumentare le nostre tariffe in modo che la cosa venga ben accettata anche dai nostri clienti eccetera eccetera possiamo fare un sigillo per ricevere un rimborso di spese o di tasse arretrate di crediti che abbiamo fare un sigillo da recupero crediti per recuperare per esempio del denaro che ci è dovuto possiamo fare un sigillo se abbiamo delle altre proprietà per riuscire a vendere o a mettere in affitto una casa o un ufficio che abbiamo possiamo no? attaccare il problema da tempistiche non ho capito la domanda Silvia le tempistiche nel senso di possiamo attaccare la cosa da un punto di vista anche delle tempistiche non ho capito cosa intendi comunque insomma no? avete capito più o meno l'esempio no? cioè prendiamo tutto quello che ci viene in mente che riguarda la nostra situazione può essere questo può essere una situazione emotiva può essere una situazione familiare può essere qualunque cosa no? ovviamente adesso cioè uno al giorno o una settimana no no aspetta perché adesso diventa divertente la parte degli storni che dicevo prima ademar dice ciò che in scienze mistiche viene detto osserva il piolo della scala e non soffermarti sulla lunghezza della stessa esattamente facciamo un gradino per volta va bene? e come sarebbe se potessimo fare un gradino per volta ma tutti insieme? dice ma è un controsenso in termini? no è un controsenso in termini solo affinché noi teniamo presente la natura individuale dei sigilli e non teniamo presente la natura di stormo o di branco dei sigilli perché possono comportarsi esattamente come un banco di pesci o una scuola o un branco di gazzelle o uno stormo di passeri ok? e come possiamo fare per applicare questo tipo di tecnica ai sigilli? allora ripetiamo un po' quello che abbiamo detto prima tutti i membri dello stormo mantengono una distanza simile si muovono a una simile velocità e sono attratti da un unico centro di gravità il centro di gravità nel caso dei sigilli qual è? la nostra volontà ok? ma soprattutto c'è un pesce pilota o un passero pilota che è quello che dà il primo spunto iniziale al movimento e che poi tutti gli altri seguono più o meno inconsapevolmente è un fenomeno naturale non è una decisione conscia è un istinto che è stato selezionato evolutivamente perché porta alla sopravvivenza porta più efficacemente alla sopravvivenza quindi come possiamo fare? possiamo fare una cosa molto semplice vi ricordate la lista di cose che abbiamo detto prima no? ridiscutere il mutuo con la banca ricevere denaro in omaggio in regalo ricevere un'eredità ricevere rimborsi da tasse arretrate o da nuovi contratti insomma tutte quelle cose che abbiamo detto Antonella ma si può fare un sigillo d'amore per trovare la persona perfetta? sì sì certo si può credo che sia più difficile del superanalotto però ci puoi provare forse anche quello è un altro esempio in cui io userei questa tecnica più che altro ma comunque abbiamo fatto il nostro elenco elenco di tutti i vari passaggi tutte le varie cose piccole più facilmente attaccabili che possono nel complesso portare a un miglioramento del problema ok sigilliamo ognuna di queste frasi ok ridiscutere il mutuo della casa o con la banca ricevere il denaro in regalo ricevere il rimborso spese le tasse arretrate riuscire a mettere in affitto ognuna di queste cose partendo dalla tecnica base che mi hanno spiegato nella live scorsa che abbiamo fatto diciamo il breve riassunto in questa live le sigilliamo seguiamo le stesse tecniche quindi mettiamo ognuna di queste frasi al presente indicativo in positivo senza voglio desidero eccetera eccetera togliamo tutte le vocali togliamo le consonanti doppie facciamo la la nostra radice consonantica per ognuno di questi sigilli e poi li sigilliamo se vogliamo possiamo mettere un elemento comune a tutti i sigilli in modo che facciano parte di una serie come se fossero tutti animali dello stesso branco ok può essere una virgola può essere un piccolo simbolino che aggiungiamo eccetera eccetera dopodichè cosa facciamo creiamo il pesce pilota o il gabbiano pilota o come lo volete chiamare e come lo possiamo chiamare come lo possiamo creare noi dobbiamo cercare di far sì che tutti questi sigilli si concentrino verso un unico centro di gravità che è il nostro intento e il fatto che si debbano manifestare nella nostra vita ok e dobbiamo farlo nella maniera più efficace possibile e più economica possibile quindi facciamo un sigillo e questa è stata l'idea interessante direi quasi geniale di Gordon White appunto di Roomsoup creiamo un sigilliamo una cosa che è già avvenuta una cosa che si è già verificata può essere qualunque cosa se ha a che fare con l'argomento in questione tanto meglio ma in realtà può essere qualunque cosa non lo so se avete fatto di recente il compleanno avete fatto 40 anni quindi potete sigillare ho compiuto 40 anni per esempio oppure lo so avete avuto di recente siete riusciti non so a firmare un contratto di recente con un cliente ho firmato il contratto col tal cliente qualcosa che effettivamente è già avvenuto si è già verificato si è già manifestato si è già concretizzato nella vostra vita ok questo è il cosiddetto pesce pilota è il sigillo pilota cioè è il sigillo che darà lo spunto iniziale al movimento a tutto lo stormo e che dirigerà lo stormo verso che cosa verso la manifestazione perché lui è da lì che viene e si è già manifestato quindi rimanendo tutti coerenti vicini muovendosi alla stessa velocità attorno allo stesso centro di gravità che è la vostra volontà seguiranno il pesce pilota per così dire e avranno più chance di manifestarsi quindi quello che farete è prendere non so ne avete fatti cinque ok cinque eh sigilli più uno che è appunto il sigillo pilota li mettete di fronte a voi e li fate insieme e li lanciate insieme e usate esattamente le stesse tecniche che usate normalmente per fare il caricamento e per fare il lancio se usate normalmente la magia sessuale poi li bruciate potete usare quello se usate altre tecniche come quelle che abbiamo detto stasera usate quello eccetera eccetera cioè un metodo per legare tanti piccoli pezzi di un problema che vi può apparire come insormontabile nel suo complesso a qualcosa che si è già verificato quindi spingendo anche questi piccoli attacchi che state facendo a livello probabilistico alla manifestazione di tutti questi sigilli il sigillo pilota sarà la sintesi dei sigilli precedenti no 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 non c'entra nulla no il sigillo pilota è la sigillazione di una frase di qualcosa che vi è già capitato che è già successo concretamente cioè io se dovessi farlo domani il sigillo buonasera Franca il sigillo che potrei fare è ho fatto la seconda live sui sigilli e quello sarebbe il sigillo pilota perché è qualcosa che si è effettivamente già concretizzato si è già verificato ok esattamente esattamente Adivar è quello che pilota gli altri sigilli alla manifestazione nella vostra vita perché lui lo ha già fatto lui conosce già la strada lui si è già manifestato in quanto avete sigillato un evento che si è già concretizzato è già passato quindi è un raff è quello che dicevamo quando anche nella tecnica base diciamo scrivete al presente indicativo come se stesse già accadendo o come se fosse già accaduto in questo caso è un rafforzativo ulteriore di quel processo ok ciao Anna Maria è un po' complicato adesso partire da zero se vuoi c'è la live precedente in cui viene spiegato tutto da zero ok ci sono domande o dubbi su sarebbe meglio forse qualcosa di significativo se è qualcosa di significativo per lo scopo dello stormo di sigilli è meglio secondo me è meglio perché a livello di subconscio va tutto un po' in linea va tutto però in realtà non lo so è una mia idea questa capite? cioè quindi io ho fatto degli stormi di sigilli e non sempre ma ho avuto dei buoni riscontri non mi ricordo francamente secondo me il sigillo pilota non deve necessariamente essere collegato allo scopo dello stormo se è collegato con lo scopo dello stormo probabilmente è meglio se è un evento particolarmente significativo a livello emotivo probabilmente è meglio è un pilota più efficace mettiamola così un magnete astrale esatto si Loredà un magnete astrale già precipitato nella materia che porterà gli altri sigilli ad ancorarsi a sé e manifestarsi per risonanza esattamente il concetto è quello quindi fate quattro cinque sigilli sei sigilli quelli che volete insomma quelli che avete elencato cercando di analizzare il problema che vi trovate di fronte per spezzettarlo e per conoscerne i vari aspetti i vari dettagli e poi aggiungete il pilota tenete presente che anche solo l'aspetto di analizzare il problema riducendolo alle sue componenti fondamentali è già di per sé una cosa estremamente utile in psicologia per avere un atteggiamento già di base completamente diverso nei confronti del problema stesso quindi c'è anche questo aspetto che è molto forte di rafforzamento del processo di come dire decidere di agire nei confronti del problema e non rimanere bloccati dalla sua apparente inattaccabilità e quindi c'è anche questo aspetto che comunque è molto interessante ci sono altre domande dubbi in merito a questa tecnica specifica che trovate un articolo sul mio blog ovviamente sugli stormi dei sigilli se cercate sigilli o caos magic sul blog ci sono parecchi articoli che parlano della magia dei sigilli io stasera vi faccio un paio di esempi anche perché come sempre se no non facciamo tempo a fare tutto ma ci sono molte molte tecniche possibili compresa quella che appunto come dicevo degli pseudoservitori facciamo piovere un'altra tecnica che non tratteremo stasera perché è molto complessa come argomento ma sono i sigilli pubblici o i sigilli collettivi magari tratteremo in qualche altro incontro ma o magari scrivere un articolo sul gruppo perché potrebbe essere molto interessante soprattutto ovviamente per le persone che hanno seguito queste due live quindi sono diciamo ridotte sulla tecnica potrebbe essere interessante creare un gruppo di lavoro per provare a fare dei sigilli pubblici insieme potrebbe essere molto interessante adimari inoltre si potrebbe organizzare tutto graficamente come sistema solare il pilota sarà il sole contornato dai pianeti e nell'insieme interiorizzarli come un unicum anche è un'altra bella idea vedi cioè è molto interessante anche questa assolutamente grazie vado a visitare il suo blog allora Antonella e Franca sentitevi ovviamente libere di andare a visitare il mio blog magari è finita la live dai state qua non scappate adesso il blog è La Stella ha otto punte lo trovate ovviamente anche nei miei dettagli anche sul gruppo ho già pubblicato qui su Arti Magiche diversi articoli del blog per cui poi da lì potete risalire alla home page senza problemi e c'è anche una pagina della Stella ha otto punte su Facebook che se volete potete andare a mettere like e così lì io condivido tutti i miei contenuti per cui potete seguire insomma tutte le mie attività anche lì diciamo che indica dice Giussi diciamo che indica la strada verso l'astrale lo sviluppo e la concretizzazione della materia resta il fatto che se alcuni membri del branco non hanno possibilità si schianteranno giusto? ottima idea Yuri Cinzia immagino tu ti riferisca ottima idea all'idea dei sigilli collettivi da fare nel gruppo sì un gruppo di lavoro sarebbe interessante Giussi sì vuol dire che non si è fatto molto bene il lavoro di analisi del problema che dicevamo all'inizio cioè abbiamo mantenuto comunque alcune parti del problema estremamente improbabili quindi non le abbiamo spezzettate abbastanza cioè bisogna cercare di rendere la cosa il più possibile attaccabile da un punto di vista probabilistico questa è una tecnica che funziona principalmente in base sia come dicevamo prima alle osservazioni etologiche che abbiamo detto sia all'applicazione del cosiddetto modello probabilistico della magia sapete che ci sono diversi modelli di interpretazione possibili insomma dei fenomeni magici il modello spiritista il modello probabilistico il modello informatico il modello energetico il modello psicologico eccetera quindi questo è una tecnica che in particolar modo deriva proprio dalle ricerche fatte nell'ambito nell'ambito del modello probabilistico quindi sono tutte cose che sono molto interessanti ma appunto diventa complicato perché come scrivevo in un post sul mio profilo qualche giorno fa in magia ogni singolo dettaglio di una discussione può diventare non un nuovo ramo una nuova foresta di discussione è tutto frattale ci si può perdere molto molto facilmente nella foresta della ricerca e della pratica delle discussioni nel campo della magia e dell'occulto quindi va bene se non ci sono altre domande o altre idee consigli dubbi quant'altro avete capito no? più o meno come funziona la tecnica poi comunque ribadisco se cercate sul mio blog trovate un articolo in cui la cosa viene spiegata forse anche meglio di come ho fatto stasera spero insomma comunque ci sono anche degli esempi e quant'altro invece l'altra tecnica diciamo avanzata di Sigil Magic che volevo presentarvi stasera è un metodo che è stato invece creato da una praticante che si chiama Elis Oursa ha scritto Elise Oursa ok Elis Ursa che è presente su Facebook fra l'altro ha un suo sito web che è The Blood and Ink Tarot se non sbaglio ed è la creatrice di questo mazzo di tarocchi appunto The Blood and Ink Tarot cioè i tarocchi del sangue dell'inchiostro fra l'altro un mazzo artisticamente incredibile meraviglioso ed estremamente evocativo che vi consiglio di andare a vedere quantomeno è una praticante da molti anni è una strega è una tarologa ed è insomma un personaggio molto particolare ha anche creato un gruppo su Facebook si chiama Coffee and Cards CNC in cui lei e tutti quelli che vogliono si ritrovano tutte le mattine a volte anche la sera a fare i tarocchi insieme a fare degli esperimenti a fare delle cose ovviamente essendo lei anglofona si parla inglese e la maggior parte delle persone sono diciamo da paesi di lingua inglese o comunque bisogna sapere un po' la lingua per capirsi però fanno molta sperimentazione e sono molto molto interessanti come gruppo e lei è una praticante insomma molto preparata molto interessante e se non sbaglio ecco esattamente questo qui è l'home page del suo sito che potete cercare se cercate The Blood and Ink Tarot trovate tranquillamente il sito Rita hai mai scritto valutato sul tuo blog l'uso della magia correlato al karma? non so di preciso cosa intendi perché partiamo dal presupposto che come ti direbbe Valeria noi Valeria Martini noi in occidente abbiamo l'idea del karma che ci siamo inventati sostanzialmente ma non ha granché a che vedere con il termine reale che viene usato nel buddismo e nell'induismo però in questo specifico diciamo questa richiesta che hai fatto non ho capito di preciso che cosa intendi dire se vuoi scrivimi però no non ho scritto l'uso della magia correlato al karma no non è una cosa che mi è capitato di affrontare francamente quindi dicevo questa qui è l'home page del sito che vi dicevo di Elise Ursa lei ha sviluppato un metodo molto interessante con i tarocchi per la creazione di sigilli quindi mischiando un po' come con la storia degli pseudo servitori in cui si mischiano le tecniche dei tarocchi e le tecniche dei sigilli questo è un altro metodo per la creazione di sigilli usando i tarocchi non c'entrano gli pseudo servitori sono sigilli a tutti gli effetti che usiamo e attiviamo e lanciamo come qualunque sigillo ma il metodo di creazione non è quello linguistico diciamo di creazione della radice consonantica e poi del simbolo grafico ma è leggermente diverso e si basa appunto sostanzialmente su una stesa di tarocchi ok allora sostanzialmente funziona così c'è una stesa di tre carte c'è una carta della medicina diciamo che è quella che va a curare il problema e si può sostituire con una delle tre carte sotto una carta di reggenza e poi da lì si deriva il sigillo ok cercherò di spiegarmi meglio allora in questo caso visto che l'esempio che fa lei e che io riprendo in questo caso usiamo come carta di reggenza la ruota della fortuna perché ribadisco in questo caso quello che noi stiamo cercando di fare è di creare di provocare un cambiamento nella nostra vita immaginiamo che beh questo sostanzialmente è un po' lo scopo di tutta la magia e di sicuro di gran parte della della magia dei sigilli ma immaginiamo che il nostro scopo in questo campo specifico sia creare un cambiamento in una parte della nostra vita in un aspetto della nostra vita quindi la ruota della fortuna è sicuramente la carta di reggenza migliore per appunto cercare di provocare questo cambiamento e quindi scegliamo questa carta come carta di reggenza cioè la carta che determina l'interpretazione e il senso di tutte le carte successive della stesa ok Adimar dice in questo caso karma si potrebbe ben operare in campo cerimoniale in occidente con i reti dei decani che io personalmente sto portando avanti ora da ben tre mesi da una metodologia potente e sorprendente ma quelli che ho scritto io che i reti dei decani ne sono onorato sei più bravo di me perché io non sono ancora riuscito a metterci mano pur avendo scritto tutta la pappardella c'ho il quaderno con tutte le robe no in quel senso nel senso di magia correlata con il presunto destino che noi abbiamo sì questo è un ottimo metodo sì sì usare la magia per cambiare la nostra realtà pone il problema di voler cambiare il proprio destino e ci pone il dilemma filosofico caso libero arbitrio io non sono d'accordo che noi abbiamo un destino e di conseguenza risolto il problema cioè nel senso sicuramente abbiamo una però stiamo andando molto off topic adesso rispondo a Rita poi magari ne parliamo in un'altra occasione perché si sta andando molto off topic sicuramente noi abbiamo una nostra inerzia ok? che è determinata da chi siamo, da come siamo fatti da tutte le azioni che abbiamo compiuto fino a questo momento che spingono in maniera a volte anche molto forte in una certa direzione gli eventi che però questo sia un destino predeterminato scritto da non si sa chi, non si sa come e che non si possa cambiare io non credo che sia vero non credo che sia vero a livello fisico proprio cioè non penso che un destino preordinato e la fisica quantistica possano convivere nello stesso universo credo che ci sia una forte spinta deterministica che è causata da come siamo fatti da chi siamo, da tutte le nostre azioni le azioni delle persone vicino a noi le pressioni cioè è chiaro che c'è un ambiente e una storia che va in una certa direzione però io non credo che esista un destino immutabile penso che sia la somma delle volontà degli eventi e delle azioni di tutti noi quindi io non non credo che che ci sia la possibilità di cambiare il destino cioè sì stiamo uscendo dal fulcro della live ha ragione giusto infatti stavo dicendo è un po' off topic ma comunque sì il libero arbitrio è un concetto di base in magia cioè se non accetti la presenza del libero arbitrio non credo che ci sia la possibilità di operare neanche di fatto magia sì sì hai ragione Silvia scusate no vabbè voglio anche un po' interagire con la gente se no non finiamo più va bene dicevo noi vogliamo creare un sigillo per operare un certo cambiamento in un aspetto della nostra vita ok quindi prendiamo la rotta della fortuna come carta di reggenza e poi facciamo la nostra domanda e facciamo una stesa di parocchi ok in questo caso vengono fuori il 3 di bastoni il 3 di spade e il cos'è quello 9 di pentacoli ok ora chiaramente questa è una stesa interessante ma anche un po' problematica perché quel 3 di spade potrebbe indicare un grosso dispiacere un grosso problema un grosso ostacolo a realizzare cioè una possibile interpretazione potrebbe essere siamo lì che stiamo progettando le nostre belle cose ma poi succede qualcosa che ci fa desistere o che ci fa arrendere che ci deprime che ci rende difficile andare avanti e quindi abbiamo difficoltà a raggiungere uno stadio in cui andiamo effettivamente a raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato ok è proprio un'interpretazione molto così è alla brutto Dio ci sono persone qui in chat che stanno seguendo la live che sanno interpretare i tarocchi anche molto meglio di me quindi però è un esempio allora noi cosa facciamo per provocare il cambiamento perché questa è una stesa che dovrebbe descrivere diciamo la situazione abbiamo fatto una domanda e quindi è una stesa meditativa conoscitiva contemplativa chiamatela come volete che dovrebbe descrivere la nostra situazione attuale giusto allora in questo caso noi possiamo decidere di operare per creare questo cambiamento che che vogliamo che vogliamo avere e quindi tiriamo fuori come dicevo prima quella che Elis Ursa di Blood and Ink Tarot chiama una carta della medicina cioè una carta che va a curare la stesa e a modificare la situazione attuale la estraiamo e questa carta della medicina è questa ok allora in questo modo quello che noi possiamo fare è sostituire una carta della stesa originale con la carta nuova della medicina che abbiamo preso che abbiamo estratto ok in questo caso ovviamente toglieremo oltre di spade e ci troveremo in questa condizione ora vedete che tutto sembra fluire in maniera molto più lineare anche proprio da un punto di vista narrativo abbiamo progettato qualcosa abbiamo seminato e dovremmo avere un po' di pazienza perché i frutti possano crescere ma dopo potremmo effettivamente essere felici nel nostro giardino raccogliere i frutti della nostra semina è chiaramente un cambiamento in meglio direi in senso generico diciamo rispetto al fatto di provocare un'espansione una maggiore prosperità una maggiore abbondanza nella nostra vita e quindi cosa facciamo? facciamo un sigillo facciamo un sigillo che debba in qualche modo sintetizzare queste tre carte ok? quelle della stesa curata con la carta della medicina possiamo farlo in mille modi scrivendo il nome delle carte e poi applicando il classico metodo di sigillazione facendo la radice che abbiamo tirato fuori anche se può essere un po' lunga come radice consonantica perché possono essere tante lettere ma va bene oppure un metodo che io utilizzo quando faccio questa cosa è un metodo simbolico cioè cerco di riprodurre nel sigillo il passaggio di queste tre carte in qualche modo ad esempio vabbè togliamo la carta della rotta della fortuna queste sono le tre carte da prendere in considerazione e questo qua è il sigillo per esempio che io farei in questo caso un sigillo che cerca graficamente e simbolicamente di riprendere questo passaggio da tra i bastoni alle carte di pentacoli sono il 7 e l'8 credo 7 e 9 ci vedo poco da qua vabbè e infatti ci sono questi tre segni iniziali che sembrano i bastoni c'è un pentacolo c'è ci sono delle frecce che portano verso un output quindi verso una come dire un ritorno delle energie che noi abbiamo inserito nel circuito eccetera eccetera quindi faccio un breve ripasso di tutto quanto perché è in realtà una cosa piuttosto semplice ma mi rendo conto che a volte è più difficile da spiegare che da fare vogliamo fare un sigillo per cambiare un aspetto della nostra vita in meglio ok prendiamo la ruota della fortuna come carta di regenza perché stiamo cercando di provocare un cambiamento in meglio quindi tiriamo no facciamo fare un giro la ruota della fortuna facciamo la nostra domanda sulla situazione che vogliamo cambiare e facciamo la nostra stesa tarologica e vengono fuori certe carte dopodiché peschiamo una carta che viene definita carta di medicina carta di medicina si può usare per sostituire una delle carte della stesa in modo che sia che possa migliorare ok che la situazione possa essere migliore rispetto a quella della stesa originale la sostituiamo possiamo togliere la carta di regenza perché è servita per dare il senso alla cosa per dare l'energia la direzione alla cosa ora non serve più e poi su queste tre carte noi creiamo il nostro sigillo e a quel punto possiamo caricare il sigillo e lanciarlo esattamente come faremmo per qualunque altro sigillo né più né meno questa qui è un'immagine un po' più ingrandita del sigillo che ho fatto come esempio cercando appunto di sintetizzare le carte presenti nella stesa ok anche su questo c'è un articolo sul mio blog che ne parla in maniera più più diciamo dettagliata più diffusa ma il succo della cosa è questo tenendo Franca bravo molto bello sigillo ma la carta della medicina non è positiva come quella che è uscita lei sai che non ho capito cosa intendi se la carta di medicina che esce non è positiva intendi questo non la devi sostituire per forza allora la carta di medicina è una possibilità di cambiamento se ah ciao marcus ci stai ritrovando se a noi esce una stesa negativa ok che non ci piace la risposta non è quella che noi vorremmo tiriamo fuori una carta della medicina che dovrebbe aiutarci ma anche la carta di medicina è negativa non dobbiamo necessariamente modificarla ok si può fare anche un'altra cosa che io francamente consiglio di fare perché secondo me è indice della nostra volontà attiva che noi mettiamo nell'operazione e cioè la carta di medicina la scegliete non la estraete a caso ok voi fate la prendete la vostra carta di reggenza fate la vostra stesa osservate bene la stesa non agite in maniera impulsiva osservate bene meditate bene sulla stesa perché a volte è una stesa che può apparire di primo acchito negativa in realtà può avere degli aspetti che sono molto interessanti ma comunque una volta che avete capito qual è l'interpretazione che volete dare alle carte e avete capito quello che vorreste inserire per migliorare gli eventi e quindi per provocare questo cambiamento tramite poi la sigillazione prendete il mazzo lo sfogliate e scegliete la carta che volete per sostituire quella della stesa esatto allora se è negativa la stesa non è obbligatorio farci il sigillo la situazione deve migliorare o possiamo per l'appunto scegliere la carta della medicina ok non deve essere necessariamente una stesa di tre carte stesa di tre carte si fa come esempio e le fa anche l'isurs appunto sul sito perché è la stesa più semplice se preferite potete fare la croce semplice potete fare altri tipi di stese non deve necessariamente essere la ruota della fortuna la carta di reggenza è una carta di reggenza molto utile per la stragrande maggioranza dei sigilli che possiamo fare perché in ultima analisi che cosa sono se non un cambiamento che vogliamo invitare nella nostra vita quindi la ruota della fortuna va bene come generica carta di reggenza ma se ad esempio vogliamo fare qualcosa di più importante che ne so per l'amore possiamo mettere gli amanti per l'ispirazione artistica possiamo mettere la stella o non deve essere neanche necessariamente un arcano maggiore cioè anche questo è un metodo che ovviamente ogni singolo passaggio di questo metodo quando avete capito il perché si fa in quel modo lì potete anche lì sperimentare e andare a modificare gli elementi che compongono questo di fatto rituale ok Silvia quindi scegli la prima fai la stese nel caso scegli la carta della medicina sì esattamente dicevo appunto la prima la carta di reggenza è quello che dovrebbe dare il senso a tutta la stesa ed è lo scopo della stesa se è provocare un cambiamento in positivo appunto la ruota della fortuna sicuramente è la carta che va meglio in generale per la stragrande maggioranza delle nostre operazioni delle stese che vogliamo fare ma come dicevo prima possono esserci altri esempi in cui può essere più utile avere una diversa carta di reggenza possiamo fare una stesa tre carte oppure possiamo fare una stesa differente possiamo scegliere la carta di medicina oppure possiamo pescarla ok possiamo non sostituire la carta della medicina se non ci piace possiamo fare un'altra cosa possiamo ricollocare le carte invece che sostituirle aspettate un attimo ma essendo maghi creatori una volta estratte le carte con esiti del tutto negativi si opererà con un cerimoniale portando in altare le carte e sostituirle tutte creando la situazione evoluta si si può provare a fare anche quello magari sostituirne a volte basta anche sostituirne solo una o magari due il sigillo si può esprimere graficamente anche con i numeri dei tarocchi certo perché no perché no certo magari è un po' meno specifico perché i numeri sai ritornano sia negli arcani maggiori che nei quattro semi però può essere un'idea puoi usare il numero del simbolo del seme per esempio sì questo è il sito di cui vi parlavo Word & Weave che è quello dove c'è appunto dove trovate il mazzo di Elis Ursa e questo più o meno è il succo del metodo però come dicevo si possono si può modificare si può variare non lo so facciamo un altro esempio ammettiamo che vogliate avere una maggiore comprensione di una determinata tecnica magica o che vogliate ampliare le vostre conoscenze magiche al di là di chiamare me ovviamente ma sto scherzando vogliate avere un rapporto particolare con una determinata entità o con un vostro maestro asceso che ne so che vi possa insegnare qualcosa a livello magico allora in quel caso per esempio io userei il Papa o il Diavolo a seconda dei casi come carta di Reggenza e farei una croce una croce semplice in cui metto non so a sinistra una carta che indica tutto ciò che ho di positivo dentro che mi spinge a migliorare ad evolvere a destra tutto ciò che invece mi tiene legato le mie convinzioni limitanti ciò che mi impedisce di evolvere sopra sotto la carta di Reggenza che abbiamo scelto mettiamo una carta che descriva la situazione attuale oppure la carta di Reggenza la mettiamo al centro al centro della croce semplice ok e sotto un consiglio il consiglio su come si può migliorare la situazione quindi io ho al centro la carta di Reggenza che in questo caso per esempio può essere il Papa o il Diavolo ho queste carte che descrivono la situazione e poi a quel punto meditando bene sulla stesa posso tirare fuori una carta della medicina elimino la carta di Reggenza che non serve più perché è quella che serviva a dare l'interpretazione alla stesa elimino la carta a destra la carta con le energie negative con gli ostacoli con le cose che mi limitano tengo le altre tre che sono la situazione attuale le cose che ho di positivo a mia disposizione per cambiare le cose per evolvere e il consiglio ok e riporto una stesa a tre e a quel punto scelgo o pesco una carta della medicina posso sostituire una di queste tre carte e quelle tre carte sono in ultima analisi quelle che utilizzavo per la sigillazione quindi come vedete è un metodo che può essere anche solo stando qua un attimo a pensarci a farci venire un esempio in mente è un metodo che è estremamente utile estremamente versatile e che utilizza i sigilli in un modo diciamo non convenzionale ma molto costruttivo molto molto interessante quindi mi raccomando io vi ho presentato questi metodi ma ribadisco questi metodi non li ho inventati io poi io ovviamente li ho fatti anche miei li ho sperimentati li ho utilizzati e trovate articoli sul blog in merito ma appunto Gordon White di Run Soup è quello che ha realizzato l'idea degli stormi e Elise Ursa di Word and Weave del Blood and Ink Tarot è quella che ha realizzato l'idea di questa stesa specifica con la carta della medicina per la realizzazione dei sigilli quindi andate anche a dare un'occhiata a questa gente che insomma sono praticanti molto in gambe molto preparati e molto interessanti Silvia beh ma puoi scegliere la carta di medicina per sostituire il negativo e tenere la stesa a 4 sì anche anche però in questo caso il negativo in ultima analisi è uno specchio delle parti di te che stanno facendo resistenza quindi non lo so non lo so sì può darsi non lo so è una possibilità è una possibilità anche se ha le tre carte della medicina va bene comunque al di là della sigillazione l'idea di modificare volontariamente le carte dei tarocchi di una stesa è un atto magico cioè è un atto che si può fare da una grande potenza a livello simbolico a livello magico anche perché i tarocchi sono proprio di per sé quasi dei sigilli sono di per sé una simbologia molto importante a livello archetipico che parla molto con il nostro subconscio quindi l'atto di per sé di fare una stesa e poi decidere di cambiare qualcosa nella stesa deciderlo volontariamente e agire sulla stesa è proprio un po' come agire sulla situazione di per sé è proprio per la corrispondenza microcosmo macrocosmo per i principi diciamo simpatici di magia simpatica è un modo anche per provocare un cambiamento dentro di noi o nel mondo esterno quindi questa è una cosa che può essere utile come anche metodo rituale e meditativo al di là del fatto che poi dopo ci facciate un sigillo che comunque va benissimo insomma allora professore si professore tu sorella che professore io senza saperlo essendo che mi faccio le carte da sola mi è capitato molto spesso di cambiarle quando non mi piacevano e infatti è una cosa che può essere interessante l'importante è che lo facciate in modo consapevole cioè meditando molto bene sul problema sulla risposta che vi viene data e poi ovviamente su cosa volete fare per operare il cambiamento i tarocchi sono la via universale di corrispondenza con i percorsi esistenziali del singolo e ancora Franca quindi ho cercato di cambiare proprio un vero senso della parola oltre che le carte in tavola anche il destino sì ma infatti ribadisco è un atto magico cioè fare una stesa di tarocchi e poi modificare grazie professore piantalo questo professore per favore mi chiamo Yuri non sono professore di niente comunque quando fate una stesa e decidete volontariamente di modificare le carte state compiendo a tutti gli effetti un rituale magico è un rituale simbolico che può essere anche molto efficace molto potente proprio perché è molto semplice e proprio perché è molto istintivo e proprio perché riguarda delle figure che sono fortemente simboliche archetipiche e legate con il linguaggio del nostro subconscio va bene ce l'ho fatta stasera ce l'ho fatta a presentarvi le due tecniche che volevo presentarvi come vedete ci è voluto il suo bel tempo non ce l'avremo mai fatta in una singola live però sono contento di avercela fatta credo che ci sia tanta carne al fuoco anche qui di stimoli di idee e poi fra l'altro finalmente abbiamo dato qualcosa anche qualche elemento in più da copiare anche alle persone che mi copiano la roba e che la mettono sui gruppi che sennò poi dopo poveracci devono passare tutto il tempo su google oppure devono continuare a copiare sempre le stesse cose quindi almeno gli abbiamo dato un po' di lavoro in più da fare anche a loro e vabbè scusate questa piccola frecciatina a chi di dovere ma comunque grazie Silvia grazie Loredana detto tutto questo daresti il link della ragazza dei tarocchi sì aspetta un attimo aspetta un momento fammi vedere allora scusate lo cerco un attimo magari facciamo così ah no vabbè qua qua c'è il blog ok ecco guarda adesso se me lo fa fare il programma lo metto qua nei commenti ma comunque se cercate ecco cercate Elise Ursa ok Pad and Ink Tarot che è il suo mazzo che è molto bello lanciato da distanza in latino dottor Abjectus eh sì infatti ma deriva da quello il mio cognome deriva da Abjectus vuol dire messo fuori gettato fuori perché il mio bisnonno era un trovatello deriva proprio da quello va bene ragazzi ci sono domande? esatto ci sono domande avete allora vi ricordo visto che poi mi dicono ti dimentichi e mi ringrazio perché lo prendo in giro eh vabbè grazie a te Rita anche io possiedo un mazzo di tarot molto antico con annesso al libro di Papus ah cacchio mandami delle foto se ti va Franca mandami delle foto in chat o se vuoi mettere nel gruppo del mazzo di tarocchi del libro è molto interessante allora dato che poi ho gli amici che mi prendono a sberla e mi dicono che non lo dico mai che sono stupido allora volevo dirvi che in tutto questo appunto ho il mio blog che è la stella autopunte se volete darmi una mano a continuare a fare le mie cose il mio lavoro queste live a seguire il blog a seguire il podcast tutte le cose che faccio sul blog trovate un link al mio paypal se volete fare una donazione altrimenti potete contattarmi in privato anche post e pay se volete insomma fare una piccola donazione qualcosa per supportare il blog per supportare queste cose e poi ovviamente se vi serve qualche consulto cartomantico esoterico o cose di questo tipo vabbè contattatemi e appunto io lavoro per offerte per offerte libere quindi insomma importante che siate tranquilli siate contenti poi dopo il resto insomma però visto che questo alla fine in un certo senso è un po' il mio lavoro tutti quelli di voi che mi seguono che leggono le mie cose che vogliono darmi una mano a continuare a farlo sono i benvenuti visto che poi se non dico queste cose ho Silvia e altre persone che mi tirano le schicchere dietro le orecchie per tutta la sera quindi le devo dire per forza va bene va bene Franca ma dammi del tu per favore dammi del tu ok chiedimi l'amicizia allora se vuoi poi ne parliamo così mi fai vedere anche appunto le foto del del mazzo e poi vediamo grazie Giussi grazie a tutti se non ci sono altre domande altre cose io farei anche che la chiudiamo qui e ci vediamo non lo so una di queste domeniche con qualche altra idea simpatica per le live che ovviamente potete dare un'occhiata al blog e potete anche fare delle proposte in merito se c'è qualche argomento specifico che vi piacerebbe che io trattassi durante una diretta fatemelo sapere e poi io ne parlo ovviamente con gli admin del gruppo e ci mettiamo d'accordo e ci organizziamo insomma va bene grazie a te Adimar grazie a tutti grazie a Oraculous grazie a tutti quelli che hanno partecipato spero che appunto la cosa sia stata veramente grazie Noemi grazie anche a te spero che la cosa sia stata utile insomma è interessante che vi possa stimolare a utilizzare questi strumenti a sperimentare con questi strumenti nella vostra pratica e soprattutto se lo fate scrivete nel gruppo le cose che vi sono capitate come avete deciso di utilizzarli e poi se volete che proviamo a fare ciao Claudia grazie a Teresa anche Loredana Franca eccetera se volete che proviamo a fare il gruppo di lavoro per la Sigil Magic potrebbe essere molto interessante sentiamoci nel gruppo e ne parliamo magari facciamo una stanza qualcosa insomma vediamo un po' ne parliamo anche con Angela ovviamente con gli altri moderatori del gruppo grazie a tutti e buona serata vi saluto e ci vediamo presto che la benedizione degli dei sia sempre con voi ciao